l'anna si è allenata a casa quindi non avrà problemi saremo solo noi che non ci siamo allenati ad avere problemi due tre l'hai fatto anche tu tappeto allora carla avremo problemi io e te e beh allora non avrei problemi avrò problemi solo io 5 6 7 8 e scendiamo un braccio dalla parte dove andiamo qui qui 2 3 4 5 6 7 8 e ancora 8 7 6 5 4 3 2 e 1 solo gambe 3 4 2 passo puntato qui con anche una piccola pressione del busto piccolissima 4 5 6 7 8 e ancora il riscaldamento soft 6 5 4 3 2 scaldiamo bene 1 mi giro mi giro ci scaldiamo bene così dopo siamo pronti a fare un sacco di fatica qui per far contento l'osteopata della carla ci credo che non sei più andata mi ha fatto quello che ha detto lui che ha detto lui qua 4 3 2 2 ancora su con la flessione cerchiamo di aumentare la flessione laterale del busto 2 3 aumenta la flessione la flessione 4 5 6 7 8 e aumenta la torsione 1 2 3 4 5 6 7 8 e qui su aveva detto di muoversi tanto soprattutto le braccia perché si 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 aveva detto così l'osteopata mi ricordo benissimo aprire le spalle ecco dalla vita in su è un disastro e quindi bisogna muovere tanto le braccia 4 4 3 2 1 mi fermo allargo un pochettino le gambe tiro e tiro tiro verso l'alto eh in alto 2 3 4 5 6 poi dopo una settimana di pausa abbiamo un sacco di forza abbiamo un sacco di forza 8 6 6 5 4 3 2 1 qui le mani spalla al ginocchio opposto spalla al ginocchio opposto spalla al ginocchio opposto 8 2 3 4 5 6 6 7 8 e stop spalla al ginocchio opposto giro le spalla iniziamo scusa saltellando poco poco dei jumping jacks però facciamo con le braccia dell'incrocio in avanti 1 2 per far aprire le braccia alla Carla 4 5 5 6 7 8 8 8 7 7 8 6 5 4 3 2 1 e stop gambe larghe Affondi, affondi, piccoli e piccoli. O, due, tre, quattro, cinque, sette, sette, otto e ancora. O, otto, alziamo il tallone, sette, sette, cinque, quattro, tre, due, e uno. O, jumping jacks, o, due, tre, quattro, cinque, sette, sette, otto, otto. Ci concentriamo sull'apertura, eh. O, due, tre, quattro, cinque, quattro, tre, due, uno. Mi fermo, affondo, e affondo. O, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Con la spinta. O, due, tre, che cado, quattro, cinque, verso l'equilibrio, sei, sette, otto. E, o, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Qui, l'ultima volta. Si, hatta,row, tre, quattro, cinque, sette, otto, e ancora. 8 7 6 col tallone 5 4 3 tenete il bacino fermo al centro 2 e 1 stop avvicino già che siamo qua piccoli senza fare troppa fatica a profiudo 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 li facciamo doppi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 6 6 5 4 3 2 e 1 stop 3 tolgo 4 3 2 talloni e glutei 1 2 3 4 5 6 7 8 7 7 5 4 3 2 ancora 6 2 3 4 5 6 7 8 8 7 7 5 4 3 2 5 singoli 6 6 5 6 7 8 7 7 7 5 4 3 2 2 2 8 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 8 8 5 5 5 4 3 2 1 stop perché sei allenata 1 2 3 4 5 6 7 su bene su 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 che così stracciamo 2 3 4 5 6 7 7 8 7 7 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 7 5 4 3 2 stop l'ultima volta Carla adesso piegati bene 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 8 7 6 5 5 6 5 6 6 6 6 6 8 7 7 7 5 4 3 2 5 6 6 6 7 7 4 3 2 ancora 7 2 3 4 5 6 7 7 8 8 7 6 5 4 3 2 8 Come va? Andiamo a terra? Sì! Un pochettino così recuperiamo. Non so come mettere il cappettino. Non so come mettere il cappettino. Non so come mettere il cappettino. Lì! 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 12 12 5 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 17 17 18 18 19 22 22 23 23 23 25 25 22 22 27 28 28 28 29 29 cambio gamba, e vado, 1, qui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1, riposo le braccia ma non le gambe, vado, 1, 2, lo sentivate sulle braccia? 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, vado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1, ok, ritolgo questa che adesso fa caldo, fa definitivamente caldo, e andiamo con un'altra serie braccia e gambe, perché la Carla deve utilizzare tanto le braccia, siamo pronte? Via, 8, giù, 2, giù, 3, giù, 4, qui, 5, 6, 7, 8, 8, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 10, 8, 11, 8, 12, giù, 1, 1, cambio gamba, 8, 2, 3, 4, qui, 6, Sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due e uno. Vado solo gambe, uno, due, tre, quattro, cinque, sette, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Cambio parte, uno, due, tre, quattro, cinque, sette, sette, otto, ancora. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due e uno. Stop! Ora, già che siamo qui, plank, ruota, e qui, ruota, qui. Dalla plank, ruota, qui, ruota, e qui. Ok, magari per comodità, ruotiamo prima da una parte e poi dall'altra, così prendiamo le misure. Ne facciamo otto. Otto. Da qui, ruota, qui, due, qui, tre, qui, quattro, qui, cinque, qui, sei, qui. Sette, qui, qui, otto, qui, e recupero. E Anna, dobbiamo aprire per la talla. Dobbiamo fare aperture. Vado. Uno. Qui. Due. Qui. Tre. Qui. Quattro. Qui. Qui. Cinque. Qui. 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 Otto. Qui. Qui. E... Allungo. Ci mettiamo a schiena terra. Intervalliamo con un po' di addominali normalissimi. Salgo. Scendo. Uno. Due. Tre. Quattro. Due. Chi. Una, due. ie 아파트. Due. 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 No, due. Mi giro ancora una serie di plank? Eh sì, amica, possiamo lasciarla cadere nel vuoto? Possiamo? Carla, eh, cosa serve una serie caduta nel vuoto? Niente. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e stretto. Dai che la parte peggiore deve ancora arrivare. Parto opposta, otto, due, tre, quattro, Cinque, sei, sette, otto, allungo. Schiena a terra e crunch. Vado. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei. Cinque, quattro, tre, due, e uno. Stop. Torniamo in piedi. Come va? Tutto bene? Prima abbiamo fatto un tallone al gluteo. Ora cerchiamo di farne due. Mi ballano gli occhiali, mannaggia, come faccio? Mi tolgo. E quindi? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ancora. O. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E? E uno. Ma no. Sono soft. Ve li ho fatto fare in due tempi. Allora. Affondi indietro. Quindi. Affondo. Flessione. Qui. E su. Affondo. Flessione. E su. Affondo. Flessione. Flessione. Salgo. Affondo. Flessione. Salgo. Affondo. Fletto. E. Due. Giù. Tre. Senza fretta. Quattro. Cinque. Seis. 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 Ancora. O. Seis. 7 6 Hai una stringa sbrazzata. 5 4 3 Piano 2 E 1 Cambio parte. Aspetta, aspettiamo. Siamo alla Raffaella. Vado. Affondo. Flessione. Salgo. Per par condicio 3 o 4 niente. Sono gratis. Perché dall'altra parte non le ho contate. Le prime non le avevo contate. 2 1 Questa è una. 2 3 4 5 6 7 8 8 8 7 6 5 Due, quattro, tre, due e uno, salta, così stracciamo. Piedi uniti, pronti? Va, otto, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sette, ho sbagliato io, cinque, quattro, tre, due, uno, come va? Tappetino, ci mancavo, ci mancavo, vero che vi mancavo? Allora, adesso sono calde, quindi possiamo runner stretch, più push up, stendo. Allora, facciamo così, facciamolo gradualmente, iniziamo solo con runner stretch, uno da una parte e uno dall'altra, senza push up, ok? L'anno è preoccupante. Da qui, runner stretch, torno. Runner stretch, torno, due, torno, tre, torno, quattro, torno, quattro e recupero un salto. Ora, tutti solo a destra, quattro, corrano con il push up, ok? Ce la facciamo? Quindi qui le braccia, appoggio, push up, su, torno, due, piego, su, torno, tre, piego, su, torno, quattro, piego, su, cambio parte. Un salto, piego, su, cambio parte. Quattro, piego, su, e stop. Come va? Benissimo! Non va benissimo. Ora, un altro un po' faticoso. Faccio vedere. Reverse push up. Partiamo da qui. Su. Sì. Qui. Lì. Scendo. Salgo. Qui. Su. Senza salto. Senza salto. Non siete felici? Non c'è salto. Non c'è salto. C'è solo uno stando. Pancia a terra. Anche da qui possiamo partire. Partiamo da su. Partiamo da su. Perché vi lascio il tappetino sotto. Sarebbe da fare con questo tappetino però. Allora. Da qui. Appoggio. Salto. Scendo. Completamente. Stacco. Qui. E mi alzo. Non c'è di male. Ne facciamo. Senti. Otto più otto. Dai. Appoggio. Qui. Giù. Salgo. Uno. Su. Qui. Giù. Leggo. Due. Qui. Su. Tre. Su. Scendo. Giù. Quattro. Qui. Fanne meno. Fanne con calma. Giù. Cinque. Sei. Sette. Otto. Versione più semplice. Appoggio le ginocchia. Appoggio. Otto. Sette. Sei. Dai, dai. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Stop. Eh? Come va? Bene. Perché ne avete fatte due. Due, tre, quattro. Otto. Eh, devi largurare la pancia, ma se me ne fai quattro su sedici. Allora. Semplice. Faticoso, ma semplice. Dai, l'ultimo e poi ci mettiamo a terra. Gambe larghe. Gambe larghe. Affondo laterale con un touchdown. Quindi, touchdown. Sotto. Solo da una parte. Ok? Braccio, vedete voi dove metterlo. L'alto. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Non giratevi, eh. Sei. Sette. Dovete stare sempre al centro. O. E ancora. O. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Cambio parte. Otto. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Ancora. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Alterna e touchdown. Quindi. Un. Otto. Due. Non truffo tutte le volte in piedi, eh. Due. Tre. Tre. Quattro. Quattro. Cinque. Cinque. Sei. Sei. Sette. Sette. Otto. Otto. Ancora. Otto. Otto. Sette. 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 Sei. Cinque. Cinque. Quattro. 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 Tre. Due. Due. Uno. E uno. Stop. Andiamo a terra. A terra dovete mettere, visto che fu freddo, dovete mettervi su qualcosa. Dovete mettervi su qualcosa che fu freddo, terra. Non saltiamo più. Non vorrei che vi prendiate brutti i raffreddori. Influenze. E in questo periodo è brutto prendere l'influenza. In mezzo a non prenderlo. Allora. Da qui. Una gamba la portiamo al petto. L'altra terra. Bridge. Gio. Otto. Due. Due. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Otto. Sette. Sette. Cinque. Quattro. Tre. Due. Cinque. Qui. Ottimo. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sette. Sette. Otto. Ancora. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Appoggio, incrocio, eagle crunch, salto e scendo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sette. Sei, cinque, quattro, tre, due e cambio, gamba, cambio incrocio, vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ancora otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due e uno. Al centro, solo crunch. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Ce la facciamo a farne ancora una serie? Incrocio, eagle crunch, vado. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette. Tre, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Cambio, cambio, si sentono, eh? Vado. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno. L'ultima volta, crunch al centro, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Gli ultimi, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno. Sposto, allungo, come va? E' stata breve, ma intensa. Ok, porto un ginocchio al petto. Spesso, stretto, 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 appoggio a terra al piede, porto l'altro ginocchio al petto, stretto, stretto. e porto a terra al piede, braccia larghe, scendo con le gambe a sinistra, testa a destra, centro, mi tremano le gambe, cambio parte. Centro, ginocchio al petto, dondolo sulla schiena e mi siedo. Tutto bene? Non vi trema nulla? Male, male, se non trema, malissimo. Srotalo pian piano la colonna. E giro le spalle. Respira su. E giù, ancora una volta. E giù, ancora una volta. Ciao, ciao. I giù, ancora un po' di mei se vede. E giù. Grazie a tutti.